Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal Giardino dei Frati, per raccontarvi quello che riuscì a fare un certo modesto Dinelli, un fotografo, un fotografo di San Giovanni Rotondo che riuscì a scattare nell'ottobre del 1918 alcune immagini a Padre Pio nelle quali si vedevano benissimo le stimmate e da qui ne scaturiva anche un lavoro per lui, le vendeva. Un giorno trovandosi modesto a Rodi Garganico un tale osservando queste immagini non fece altro che inveire contro di lui, contro Padre Pio cominciando a definirlo imbroglione, imprecando, bestemmiando. Insomma alla fine modesto non ci vede più e comincia a litigare. Volano calci, pugni, insomma scoppia la rissa. Modesto viene arrestato. Una lite che andò a finire male per modesto, infatti si dovette fare 40 giorni di carcere. Dopo 40 giorni viene qui in convento, va da Padre Pio, padre gli racconta il fatto, a causa vostra, ecco proprio per difendere lei, io sono finito in prigione. Proprio per aver scattato quelle foto dove lei celebrava la messa, insomma hanno inveito contro lei e Padre Pio lo tranquillizza. Modesto, abbiamo ancora 50 anni, stai tranquillo, tutto andrà bene. Al che modesto non pensa a quella risposta, tant'è vero che comunque ogni volta che veniva qui in convento e si ritrovavano a vivere l'anniversario delle stimmate di Padre Pio, ecco Padre Pio quando lo congedava gli diceva sempre modesto abbiamo ancora 40 anni e così anche per le altre volte, modesto abbiamo ancora 35, modesto abbiamo ancora 30, fino a che questa data si avvicinava abbiamo ancora 15 anni, modesto abbiamo ancora 5 anni, modesto abbiamo ancora 3 anni, 2 anni, beh possiamo immaginare come modesto si avvicinò proprio nel giorno in cui quei 50 anni erano terminati, era pallido, impaurito, era il 20 settembre del 1968 quando si saluta con Padre Pio ed era presente anche Padre Alberto D'Apolito, gli disse modesto i 50 anni sono passati, al che modesto possiamo immaginare che tremava come una foglia, nel momento in cui si congedò andò via, beh Padre Pio venne a mancare e morì dopo due giorni, il 23 settembre, la notte, tra il 22 e il 23 settembre del 68, ma modesto continua a vivere ancora per altri 15 anni, lui morì nel 1983, il 2 marzo.